ciao a tutti amici e amiche del geno anno atipico oggi torno a fare un video dopo tanto tempo che non mi vedevate diciamo direttamente e lo faccio perché ormai è quasi certo che le maglie della prossima stagione saranno targate K punta K infatti è stata un po' la battuta che ho voluto fare nel titolo ma io non sono assolutamente in disaccordo con la scelta e voglio chiarire subito ho voluto fare questo video di diciamo a scatola chiusa per dire solo un paio di cose io non so ufficialmente cosa ci fosse dietro all'accordo con castore saltato non saltato e quant'altro ma credo sinceramente che k ci abbia sempre fatto un ottimo un ottimo lavoro tra virgolette un'ottima impressione tranne una stagione che spero non venga ricalcata sinceramente mi riferisco e questo lo voglio dire a scatola chiusa appunto alla stagione in cui avrei avevamo avuto le maglie se non erro con della costa ma correggetemi nei commenti se sto sbagliando le maglie con tutte le maniche piene di simboli del nostro sponsor tecnico giallo ricordo in giallo sia da una parte che dall'altra c'è no una tra altre maglia da qualche parte in questo senso e e quindi questo a me sinceramente non è affatto piaciuto perché capisco avere come è successo poi in altri anni lo sponsor cui sulla manica ma qui diciamo centrale tra virgolette una volta sulle domani che e poi ovviamente nel solito punto ad esso dedicato ma una sovraesposizione del marchio rovina anche quella che la grafica della maglia quindi o quando sento parlare di cappa ho sempre sto ricordo del passato dico la verità sarà un errore sarà un mio problema non lo so però è un ricordo che mi fa venire sempre da dire punto a cappa c'è la battuta che ho fatto nel senso cerchiamo di non ripetere quell'errore grafico per me perché per me è un errore grafico ma cerchiamo invece magari di ripetere le ultime stagioni in cui si è dato risalto al rosso blu si è dato risalto alle diciamo agli altri aspetti anche delle altre maglie a livello grafico magari vedremo anche quali saranno gli sponsor che ci accompagneranno cerchiamo di quanto un'altra cosa cerchiamo di andare avanti come abbiamo fatto già con castore nel segno dell'innovazione delle maglie perché a me è piaciuta molto l'idea della maglia per esempio con la striscia diagonale rosso blu mi è piaciuta tantissimo soprattutto perché si è usato un simbolo diverso da quello iconico della prima maglia che poi si è anche ripetuto nella terza quindi anche in questo senso spero che si continui nel segno dell'innovazione nella seconda nella terza maglia ma si tenga una grande tradizione nella prima spero che venga dato il giusto risalto che merita ovviamente uno sponsor tecnico ma senza esagerare spero sinceramente che anche nelle altre maglie diciamo gli sponsor in generale non rovinino l'importanza del rosso blu comunque dei colori utilizzati e spero quindi avere anche una maglia da serie a nel senso una maglia che possa competere tra virgolette come fattivi come fattezza e come come bellezza anche grafica delle altre ripeto e quant'altro con le altre maglie di serie a e questo questo pochissimi dubbi perché k ha sempre fatto un buon lavoro da questo punto di vista se non erro poi k è anche una e anche qui correggetemi se sbaglio qui sotto nei commenti k è anche un un marchio italiano quindi diciamo che l'unione con un marchio italiano da parte di una del primo della primo club di calcio in italia per quanto ora gestito da e di proprietà di una di una holding straniera mi sembra un ottima un altro ottimo risultato soprattutto perché si spera di non avere più i problemi che si arrivano con con castore a livello di marketing si spera di tornare anche ad avere questo voglio dire subito spero che oltre maglie si tornerà ad avere nello store tutte quelle che sono gli altri tipi di abbigliamento sportivo dalle delle cose tecniche alle cose di tutti i giorni perché anche quello siccome era un ottimo modo sia per cap per per lo sponsor tecnico che per il genoa di guadagnare o sicuramente per loro ma io ci aggiungo un ottimo modo di essere nella vita di tutti i giorni del tifoso o del o anche solo per simpatizzante appassionato detto questo fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti aspetterò ovviamente le maglie che dovrebbero arrivare inizio luglio per fare anche dei video legati proprio alle al commento alle maglie come ho fatto anche l'anno scorso fra quest'anno non so se lo farò in versione tiktok barra versione real per capirci store o se volete versione short di youtube o se lo farò in versione estesa come vedete adesso c'è versione tra virgolette youtube vedrò poi a seconda di quello che sarà il commento che mi verrà da fare detto questo vi do appuntamento a un prossimo video vi dico che a inizio giugno inizieranno uscire le puntate del podcast che vi ricordo adesso spotify vi ricordo anche ne approfitto per ricordarvi anche che non sarà un podcast settimanale o mensile ma sarà legato alle date degli eventi di cui parlerò quindi è un po un geno story pills in versione podcast infatti riprenderò eventi di cui ho parlato nel geno story pills che intanto sono sparite da youtube per riproporli in altri modi perché vedrete che mi affiderò a parole di anche di altri ma non vi anticipo nulla si partirà giugno già con due puntate passando avanti durante ovviamente tutto questo periodo seguitemi su spotify genoa story podcast seguitemi su di tutti gli altri social un saluto a tutti dal vostro genoana tipico ciao ciao